pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati da questa settimana per cinque domeniche ci spostiamo sul Vangelo secondo Giovanni nel capitolo sesto Gesù moltiplica i pani e pesci e poi spiega questo segno con un bellissimo discorso che alcuni studiosi chiamano discorso eucaristico questa settimana abbiamo la moltiplicazione dei pani si tratta di un segno grandioso Gesù partendo da cinque pani e due pesci sfama una folla intera e ne avanza pure tra le tante chiavi di lettura noi vogliamo approfondirne una cioè lasciarci portare dentro il senso profondo di questo miracolo che potremmo dire ci consegna la logica del dono vediamo un po proviamo a scandire tre passi in questa nostra riflessione il Vangelo si apre dicendoci che una grande folla seguiva Gesù attratta dai segni che compiva dalle sue parole Gesù ad un certo punto si siede con i suoi discepoli e vedendo venire a sé la folla l'interpella dove possiamo trovare del pane per dare a tutti da mangiare disse questo per metterli alla prova perché lui sapeva bene ciò che stava per compiere ecco Gesù mette alla prova i suoi discepoli vuol vedere che cosa farebbero che soluzioni offrirebbero potremmo dire in generale che come primo passo Gesù chiede loro di lasciarsi interpellare dalla fame della gente chiede loro di non essere indifferenti davanti ai problemi che incontrano miei cari se vogliamo davvero lasciarci insegnare ad amare e imparare ad amare da dio il primo passo è quello di avere occhi che sanno vedere perché guardate a volte siamo così presi da noi dai nostri progetti dalle cose da fare dai problemi da affrontare oppure siamo così superficiali da lasciarci scivolare tutto addosso con il rischio di essere indifferenti e così possiamo tirar dritto davanti al povero per la strada così come davanti alla sofferenza la difficoltà delle persone con le quali viviamo ecco Gesù li interpella davanti a questa domanda abbiamo le risposte di due discepoli che in fondo ci offrono due possibili piste anzitutto abbiamo Filippo che ragiona fa dei calcoli e dice ma qui non basterebbero nemmeno 200 denari per comprare un tozzo di pane per tutti come a dire signore quello che ci stai chiedendo è troppo è oltre le nostre forze ecco Filippo si trova davanti a una sproporzione tra quello che lui è e ciò che dovrebbe affrontare miei cari possiamo capire l'esclamazione di Filippo calando questa scena nella nostra vita quante volte davanti a delle situazioni difficili o semplicemente davanti all'altezza la bellezza la grandezza della nostra chiamata ci siamo sentiti insufficienti magari un giovane che sente la chiamata al matrimonio ma come potrò amare per sempre fino in fondo questa persona oppure davanti alla chiamata alla vita religiosa ma come potrò lasciar tutto seguire Cristo essere dono per tutti o davanti alla chiamata al sacerdozio come potrò veramente essere conforme al cuore sacerdotale di Cristo dare buona testimonianza o davanti alla sofferenza a seguire dunque il Cristo sofferente ma come potrò affrontare questa cosa e così via anche nelle piccole situazioni di ogni giorno ecco vi dicevo miei cari che Filippo percepisce questa sproporzione e potremmo dire che Gesù è proprio qui che voleva condurlo cioè capire che la nostra vocazione è qualcosa di altissimo noi siamo chiamati al cielo ad amare metter su una famiglia santa servire guidare è una porzione del popolo di Dio è qualcosa di altissimo è qualcosa che da soli non possiamo affrontare ma abbiamo innanzitutto bisogno di Dio della sua grazia che ci rende capaci di affrontare ciò che Dio ci chiede infonde noi quell'amore che Dio chiede di dare dall'altra parte abbiamo però Andrea che fa notare ma qui c'è un ragazzo che ha cinque panni e due pesci ma cosa sono davanti ai bisogni di tutti vedete Andrea potremmo dire fa un passo in avanti è come se dicesse qualcosina c'è ma è poco ecco miei cari essere portati dentro questa logica del dono vuol dire come secondo passaggio renderci conto che qualcosa da dare lo abbiamo anche noi tutti noi siamo equipaggiati dei doni necessari per portare a termine la nostra missione tutti noi abbiamo qualcosa da poter donare madre Teresa ad esempio diceva che nessuno è così povero da non poter donare un sorriso e nessuno è così ricco da non poterlo ricevere qui miei cari si tratta di riscoprire il valore del bene possibile di ciò che posso fare di quel che posso dare e mi viene in mente madre Teresa quando dopo aver ricevuto il premio Nobel per la pace fu punzecchiata da un giornalista che le disse madre ma lei pensa di risolvere la fame di tutto il mondo i problemi di tutta l'India bellissima la risposta di madre Teresa io cerco solo di essere una goccia d'acqua pulita dove Dio mi a posto ecco se anche voi lo farete saremo quattro e cinque gocce d'acqua e così via e così potremo dissetare d'amore altri miei cari non è poco quel tempo dedicato ad un malato non è poco quella parola offerta allo sfiduciato non è poco quella scelta controcorrente tra i miei amici non è poco quell'atteggiamento coerente sul posto di lavoro sono gocce d'acqua pulita che possono fecondare altri cuori e farvi germogliare nuova vita ma eccoci miei cari e terzo passaggio questo ragazzo vi dicevo ha cinque pani e due pesci che erano potremmo dire il suo pasto ciò che bastava per sé ecco questo ragazzo cosa sceglie di fare di tenerlo per sé no lo mette nelle mani di Cristo lo consegna con tanta generosità ed è bellissimo miei cari Gesù non crea da zero i pani per tutti ma parte da quello che gli viene dato ciò che viene condiviso lui lo ha moltiplicato a partire da quel poco che gli è stato consegnato Gesù ne ha tirato fuori molto questo allora ci dice miei cari che in fondo non è importante quanto abbiamo quante cose sappiamo quanto siamo capaci ma se ci mettiamo nelle mani di Cristo se mettiamo in circolo l'amore ecco potremmo dire il terzo passaggio il problema non è se abbiamo abbastanza ma se Gesù ci può usare se gli lasciamo il volante della nostra vita se ci mettiamo a disposizione e mettiamo a servizio e condividiamo quello che possiamo sotto questo testo miei cari c'è una chiara dinamica vocazionale chi rappresenta questo ragazzo tutti noi ma specialmente tanti giovani che devono smetterla di pensare alla vita come una proprietà privata tanti di noi che rimandano il bene possibile per paura di non farcela di non essere abbastanza di non riuscire che guardano troppo alla propria debolezza e poco alla potenza di Dio che dal nostro poco ne può tirare fuori molto moltissimo allora il punto è voglio tener stretta la mia vita o donarla voglio rimanere incastrato su me stesso sui miei problemi o aprire gli occhi e imparare a guardare i problemi e la sofferenza degli altri a lasciarmi interpellare e unito a Cristo donarmi e dare quello che posso se metto il mio poco nelle mani di Cristo lui lo farà diventare molto e scoprirà una cosa bella che anziché perdermi mi ritroverò e mi resterà più di quel che potevo pensare quante volte già nel nostro quotidiano quando per amore di Dio e degli altri ci lasciamo spezzare ci doniamo andiamo oltre noi stessi Dio moltiplica le forze decuplica la gioia accende il nostro cuore di un amore capace di accendere anche il cuore degli altri cari fratelli e sorelle tutti noi siamo chiamati allo straordinario a vivere l'ordinario con un amore straordinario a sperimentare la potenza di Dio nella nostra debolezza tutti noi siamo chiamati al cielo alla santità ognuno per la sua via e ogni vocazione è una chiamata a sperimentare la potenza dell'amore di Dio che agisce in noi ma perché ciò accada c'è da consegnare la nostra vita a Cristo c'è da condividere e da compiere il bene possibile per portare a questo mondo il balsamo della consolazione il cibo della parola e dell'amore non abbiamo bisogno di chissà quali capacità ma di saperci consegnare di lasciare il volante della nostra esistenza a Cristo allora forti del suo amore e desiderosi di amare potremmo davvero sfamare la fame di senso e di vita di tanti ed è proprio ciò che ci auguriamo che il buon Dio vi benedica pace e bene a tutti